ciao in questo video vi mostro come ho realizzato dei semplicissimi ma gustosi tramezzini per le feste di natale innanzitutto ho acquistato del pane morbido quello apposta per i tramezzini senza il bordo e poi ho proceduto a preparare le due farce la prima l'ho realizzata con questa insalatina sott'aceto che ho ben sgocciolato e miscelato a della maionese la seconda invece l'ho realizzata con del tonno sott'olio d'oliva che ho sgocciolato bene e maionese e ho mescolato bene quindi in realtà sono molto semplici le due farce da realizzare eccole qui una volta che le ho preparate le ho stese sulle due fette di pane da tramezzino qui c'è la prima con insalatina e la seconda poi con il tonno che andrò ad appoggiare sopra a quella con insalatina eccola qui una volta che ho preparato e stese le due farce ho tagliato fettine delle uova sode che però le ho tagliate quando erano ancora calde quindi mi sono venute tagliate così male ecco qua vedete che obrobrio vabbè adesso vado a coprirle con della lattuga ben lavata e strizzata e quindi le uova sode si vanno subito a mimetizzare concludo mettendo della maionese sull'ultima fetta di pane morbido e vado a chiudere il mio tramezzino il mio mega tramezzino che vado a mettere nel frigo nel frattempo realizzo questi tramezzini stuzzichini con burro e salmone eccoli qua ora vado a togliere dal frigorifero e vi faccio vedere il risultato ecco qua il risultato dei tramezzini praticamente il lungo tramezzino l'ho tagliato a triangolini e questo risultato devo dire che oltre ad essere molto gradevoli alla vista sono anche molto molto gustosi a me sono piaciuti ciao